... Mister Marco Baroni a vostra disposizione. Prima domanda di Pasquale Marzotta della Gazzetta dello Sport e Mondoradio. Buongiorno mister, ben ritrovato. Monza-Lecce, una partita tra due formazioni molto forti. Lecce in questa preparazione a questa sfida, questo big match, ha studiato le varie gare. Secondo lei gli approcci da Como, Benevento e poi la gara contro il Cittadella, come li ha visti? C'è da lavorare? Allora, intanto Monza-Lecce. Monza si incontra la squadra che in assoluto ha detta, non mia ma di tutti, ha fatto una campagna acquisti pazzesca. Va bene, con una rosa che non devo stare qui ora a identificarla, spendendo anche delle cifre importanti. Questo è il dato oggettivo. Poi, soggettivamente, si incontrano due squadre che giocano a calcio. Sarà una partita bella, interessante, aperta a tutti i risultati, perché, come ho detto prima, si incontra una squadra con un tasso tecnico veramente importante. E quindi per noi è un bel test. Per quanto riguarda gli approcci, sì, è chiaro che io, scusate se ritorno sempre su questo tasto, però credo che sia un tasto importante dove alcune squadre influisce un pochino di più e alcune un pochino di meno. Noi, purtroppo, basiamo i nostri match sul lavoro e noi non abbiamo lavoro in questo momento, perché giocando ogni tre giorni puoi solo fare oggi una seduta più riconoscitiva che non di lavoro, perché chiaramente il primo obiettivo è il recupero delle energie. In più, mettiamoci che magari ci sono anche dei giovani bravi che però magari non hanno addosso questo percorso di giocare. E quindi questa è una condizione che un pochettino ha influito, forse anche sull'approccio, che però non deve più accadere, perché sbagliare umano, perseverare è diabolico e quindi in questo momento non ci possiamo permettere di fare partite che partono già in salita appena scesi in campo. Quindi questa sarà una delle condizioni, come sempre tocca a me trovare le soluzioni e le troveremo. Pierpaolo Verri, Pianeta Lecce. Salve mister, due domande. La prima su Rodriguez, se in questo momento anche alla luce delle ultime volte in cui l'ha schierato le dà più garanzie sull'esterno, come l'abbiamo visto più in passato, oppure giocando più a ridosso di coda come alternativa a partita in corso. E poi la seconda, se la partita con il Monza è la possibilità per vedere l'esordio di Asensio. Allora, parto da Asensio. Asensio si sta avvicinando sempre di più anche con Simic, ha un condizionamento migliore, ottimale, quindi piano piano prevedo un inserimento, chiaramente. Anche perché il giocatore è molto motivato, vuole darci una mano, per lui si è lanciata una sfida importante, in primis a se stesso e quindi noi tutti quelli che hanno qualcosa da dare, da spendere, sono benvenuti. Per quanto riguarda Pablo, per Pablo non è un problema del ruolo, nel senso è chiaro che lui non è una prima punta nella maniera in cui la intendiamo, ma può giocare in quel ruolo con caratteristiche diverse, come ha giocato gran parte del campionato Olivieri quando non c'era coda. Però noi ci stiamo lavorando da esterno perché il ragazzo all'interno di quel ruolo può esprimersi bene, chiaramente anche lui con le sue caratteristiche, cioè ognuno di loro deve portare con le sue caratteristiche un'interpretazione del ruolo che diventa poi congeniale a se stesso e alla squadra. Questo è l'obiettivo. Alessio Amato, Calcio Lecce. Salve mister, dopo il fischio finale con il Cittadella c'era chi era molto arrabbiato, tre ragazzi, urlava giustamente per la rabbia di questo pareggio sfuggito nel finale, chi aveva magari un po' la testa più bassa, ecco vorrei sapere il morale che ha trovato nei ragazzi in questi giorni. Seconda domanda, sempre sulla formazione ha delle idee classici avvicendamenti sui terzini e anche il centrocampo, visto che ha soprattutto sulle mezzali quattro elementi a disposizione, se pensa di cambiare i titolari rispetto al Cittadella. Guarda, per quanto riguarda i cambi, ancora, ripeto, oggi abbiamo fatto un po' di lavoro, ancora devo chiedere alcuni ragazzi che avevano anche qualche piccolo acciacco, come stanno. Per quanto riguarda il dolore, quando non vinci il dolore deve essere forte, perché più il dolore è forte e più ti allontani da quel dolore e fai in modo che non risucceda. Quindi per quanto mi riguarda ne ho avuto abbastanza, ma anche i ragazzi, perché è chiaro, quando inizi una gara con degli intenti completamente diversi e poi un po' per non buona sorte, un po' per episodi, un po' perché anche noi qualcosina abbiamo sbagliato tutti, è chiaro che ti trovi ad affrontare una situazione che ti deve dare la spinta per reagire. Quindi il morale è quello di che noi nel nostro lavoro abbiamo sempre poi un'altra prova e quindi il morale deve essere quello di non mi piace nemmeno dire mettiamo dietro le spalle le cose, perché non si mettono, bisogna sempre sentire come ti rimane il ramarico, il dolore, io lo chiamo dolore perché personalmente provo proprio questo. e quindi però adesso niente, abbiamo una partita importante che dobbiamo solo pensare a quella con la testa giusta, con la voglia, con la determinazione, con sapervole che abbiamo davanti un avversario e anche questo deve essere un avversario importante come ho detto prima, riconosciuto da tutti, non detto da me e questo ci deve dare ancora di più quella spinta motivazionale se mai ce ne fosse bisogno. Valeria Coi, Corriere Salentino. Buongiorno mister, tornando alla formazione e al discorso di Rodriguez, lei ha detto alla fine della partita con il Cittadella chi entra, chi subentra, paradossalmente è più importante di chi sta in campo perché o deve mantenere non dissipare quello che è stato fatto o deve addirittura raddrizzare le sorti della gara. È entrato Rodriguez nell'ultimo quarto d'ora per quanto riguarda l'attacco l'assenza di Di Mariano le pone insomma questo problema. Lei ha pensato di utilizzarlo dal primo minuto o vuole dare continuità agli Stoschi anche per le risposte che gli ha dato in queste settimane? No ma allora io guardate noi abbiamo comunque un attacco che funziona non a caso è il miglior attacco e quindi Pablo è un giocatore come gli altri cioè come gli Stoschi come Ragusa come 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 Di Mariano ora appena rientrerà che deve dare un contributo importante io quando parlo di questa della 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 dell'ultima parte della gara ma non lo dico io perché lo dicono le statistiche i risultati cambiano guardate noi negli ultimi cinque minuti abbiamo trovato il gol potevamo trovare addirittura il pareggio perché abbiamo avuto perlomeno due o tre occasioni importanti quindi ecco quando io parlo di chi entra deve sentirsi una soluzione importante ecco questo deve essere lo spirito di tutti i ragazzi poi nessuno nessuno è escluso dal partire titolare ecco questo è ben chiaro ultima domanda Carmen Tommasi Teleramo mister bisogna guardare sempre in casa propria come ci dice spesso ma secondo lei il Monza domani che approccio avrà la partita come scenderà in campo ma è chiaro che il Monza non sbaglierà partita questo è certo perché insomma sono partite in cui non quando si parla no di io non mi piace parlare di sentire parlare di ultima spiaggia perché poi nelle nostre categorie in Serie B lo vedi no partita importante tutte le partite sono importanti non esiste una partita meno importante di un'altra se giochi contro l'ultima in classifica è una partita importante perché se perdi punti hai fatto è la sconfitta più brutta o comunque sono i punti peggiori persi quindi noi sappiamo che loro inizi faranno una grande partita perché ce l'hanno addosso ce l'hanno nelle corde sono in casa sua e noi andiamo lì convinti di poter far bene di fare anche noi una grande partita sotto tutti gli aspetti di grande attenzione di voglia e di entusiasmo che per noi non deve mai mancare e poi sappiamo anche che abbiamo un seguito importante quindi ancora di più grazie a mister Marco Baroni grazie a voi grazie a tutti